Ciao amiche e ciao amici, come si può usare la paura del rifiuto per sedurre e far innamorare? Molte persone temono il rifiuto, temono di farsi avanti, di approcciare una donna ad esempio per paura di essere rifiutati. Molte donne temono di manifestarsi ad un uomo per paura di essere rifiutati. Questo indipendentemente dal fatto che siano persone belle, attraenti, nella loro testa c'è questa paura. E questa paura nasce perché hanno vissuto dei rifiuti in fase infantile soprattutto, per cui si sono sentiti rifiutati o rifiutati in qualche modo dai genitori, dalle persone insignificative, magari anche dal gruppo dei ragazzi, dei pari in una fase magari adolescenziale o per adolescenziale. perché poi le persone magari poi cambiano nel tempo ma questi imprinting resta dentro di noi. Per cui tutte le persone che hanno paura di essere rifiutate, in realtà hanno anche un'attrazione emotiva per il rifiuto, perché questa paura del rifiuto ha costituito una fonte di approvvigionamento emotivo. È ovvio che invece la loro sfera logica con la quale si identificano detesta il rifiuto, per cui detesta le persone che li rifiutano. Ma la parte nascosta, la parte emotiva invece prova un'attrazione quasi, diciamo, irresistibile verso le persone che li rifiutano. Per cui, da un punto di vista logico, vorrebbe una persona disponibile che, diciamo, che li accettasse, ma da un punto di vista emotivo poi perdono la testa per quello che potenzialmente le può rifiutare o per quella che potenzialmente le può rifiutare. Quindi dobbiamo imparare ad utilizzare questo. Intanto dobbiamo capire quali sono le persone che, diciamo, si coinvolgono sul rifiuto. Per cui, in una prima fase, dobbiamo utilizzare il termine rifiuto. Ah, un mio amico era tanto innamorato di una donna, ma lei lo ha rifiutato. E su una cosa... oppure viceversa, una mia amica era tanto innamorata di un uomo, ma lui l'ha rifiutato. E dobbiamo notare che cosa questa persona emette, che tipo di segnale emette su questa frase. Se emette dei segnali di gradimento emozionale, di cui ho parlato in altri video, andatevele a vedere, diciamo che sappiamo che si coinvolge sul rifiuto. Se invece emette dei segnali di rifiuto emozionale, anche questi ne ho parlati in altri video, potete andatevele a vedere, non si coinvolge tanto sul rifiuto, anzi, il rifiuto è meglio lasciarlo perdere. Dopodiché, una volta che abbiamo capito che abbiamo a che fare con una persona che si aggancia sul rifiuto, a quel punto lì possiamo somministrare il rifiuto. Come facciamo a somministrare il rifiuto? Beh, ad esempio, possiamo farlo indirettamente. Non è che dobbiamo dire, guarda, mi fai schifo, non ti voglio, vaffanculo, oppure, no, guarda, con quella faccia lì non potrei mai uscire con te. Ma dobbiamo farlo in modo più delicato, più dolce, più subliminale, diciamo così. E quindi, non lo so, possiamo dire, ah, mi piacerebbe proprio, ad esempio, se abbiamo a che fare con una persona che si sente timide, mi piacerebbe proprio uscire con una donna sicura di se stessa, che sappia che cosa vuole e che prenda l'iniziativa, per fare un esempio. So che lei, ad esempio, fa tutto il contrario, per cui, un po' come dire, se voglio farti capire che è una panda scassata, dirò, oh, che bella, mi piacciono proprio le Mercedes nuove, per dire, immacolate. È ovvio che tu vai e pensa alla tua panda scassata, quindi non è che ti rifiuta a te, ma indirettamente ti faccio vivere il rifiuto, dicendo che apprezzi una persona con caratteristiche diverse. Ovviamente, se lei ti ha appena detto, io sono timida, cioè, io mi innamoro solo delle donne sicure di se, non così. Però, diciamo che se tu hai capito che quella è una sua caratteristica, puoi attiri fuori il coniglio dal cilindro al momento buono, insomma. E in questo modo, diciamo, non ti scontrerai tanto con la sua parte logica, che sarà tranquilla, ma andrai a sedurre in modo subliminale e molto forte la sua parte emotiva, e che sentirà trasporto e attrazione verso di te, diciamo, senza neanche capire perché, ma dopo un po' se troverai innamorato o innamorata. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Iscrivetevi al canale, se vi iscrivete al canale avrete la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di condividerlo con i tuoi amici e di mettere un like sotto. Ciao!